Chi vuol giocare a... ...Globe Spa? Hihihihi, go! Cosa c'è, Tilly? Vuoi giocare a qualcos'altro? Va bene, giochiamo a quello! Posso creare una navicchia in spaziale in un attimo! Voilà! Cosa ne pensate? Ok, ok. Cosa mi dici, Teo? A che cosa vorresti giocare? Una favola! È un'ottima idea, Teo! Va bene, non piangete! Sentite, sono certa che questa camera sia grande abbastanza per tre giochi diversi! È vero! Ne sono sicurissima! Carta, forbici e sesso! Carta, forbici e sesso! Tilly, va! Attenzione! Carta, forbici e sesso! E la vincitrice è... Sì e no! Dai, Lulu, non essere rispettosa! Quindi, come dolce, mangeremo i biscotti! Sì! Biscotti! Aspetta, pensavo che volessi cupcake! Oh, non importa! È che mi piace tantissimo carta, forbici e sesso! Tira! Go, Pixie! Aiuto! Pare che i biscotti debbano attendere! Vogliono giocare a tre giochi diversi! È un pasticcio! Go! Mettilo! Avremo bisogno di una magia di alto livello stavolta! Forza, Pixie! Ok, bambini! Credo ci sia un modo per giocare tutti quanti insieme! Ma prima... Avremo bisogno di alcuni costumi! Manca solo il tocco finale! Oh, ottima idea, Tilly! Pixie! C'erano una volta tre piccoli bambini spaziali! E sebbene fossero tutti molto diversi tra loro, si divertivano sempre un mondo insieme! Buongiorno, terrificanti cani spaziali tentano di rubare il loro pettine magico! Gordon! No! Mettilo giù! Beh, missione compiuta, direi! E vi sarò per sempre felici e contenti! Glow Pixie! Ok, bambini! Io adesso vado a danza! Comportatevi bene, ok? Ciao! Stavano bene, Charlie! Da tranquilla! Ciao, bambini! Ciao, Glow Pixie! Ciao! E ora, si balla! Siamo piccoli, ma le nostre mosse infiamano ogni festa! Adesso balliamo tutti insieme! Dai, dai! Battiamo le mani al ritmo! Un bel ballo, un bel ballo, un bel ballo bellissimissimo! Gigi, ho ristretto i bambini! Cosa facciamo? Charlie tornerà dalla lezione di danza a breve! Non temete! Li riporteremo alla normalità in un battibaleno! Quando avremo scoperto dove sono i bambini? Bambini! 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 Devono essere da qualche parte! Si mette male! Charlie sarà qui a momenti! Bambini! 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 Pixie! Calmiamoci un attimo! Forse ci serve un piano! Hai ragione! Ma quale? Non mi viene in mente nulla! Qualcuno? Aiuto! Non ora, Gordon! Dobbiamo trovare i bambini! Credo che Gordon sappia dove siano! Gordon stava solo tentando di dircelo! Gordon, sei un vero tesoro! Eh, bambini! Sono tornata! Dobbiamo rimediare! Subito! Ma che cosa succede qui? Niente! È una semplice festicciola! Giusto, bambini? Ah! 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 Sei sicura di voler lasciare il letto di Eddie sul pavimento, Lulu? No, Gordon! È il felice di Lulu! Forza, lascialo subito! Ah! Piano, piano Piano, è tutto inutile! Gordon pensa che si tratti di un gioco! Ci sono! Quasi! C'è sempre aiuto! Glowpixis! Aiuto! A Charlie serve aiuto! Portale, lieto cuore! Ehi, Charlie! Cosa succede? Io forse ho capito! Gordon ha preso Eddie! È l'orsacchietto preferito di Lulu! Ma Gordon è difficile da prendere! Pensa che sia un gioco! Stai tranquilla, Lulu! A questo cucciolone serve un po' di riposo! Oh! Mi è venuta un'idea! Oh! Nuovo gioco! Queste magiche bolle soporifere dovrebbero aiutarlo a fare un po' di nanna! Missione compiuta! Oh no! È troppo tardi! Aspetta! Posso rimediare! Che te ne pare? Eddie! Perfetto! Ora Gordon non potrà più arrivarci! E Lulu? Da oggi ricordati di non lasciare le tue cose sul pavimento e di rimetterle sempre al loro posto! Oh no! È disgustoso! Fatto! È ora di insegnarvi a usare il vasino a partire da oggi! Questo è un vasino! Da adesso, per fare pipì o popò, vi siederete qui! Sì! Facile! Ok, quindi dovete andare sul vasino! Ok, lo rivedremo un'altra volta! Ok, lo rivedremo un'altra volta! Sì, sì! Così ci siamo! No! No, non dovete mettervi a ballare! Dovete usare il vasino! Come vi insegno a usare il vasino? Non state proprio capendo! Forza, Theo! È la tua occasione! Oh, Sienna! È un ricevimento davvero magnifico! No, Tilly! Sul vasino! Sì! E la torta è spettacolare! Oh, grazie mille! Grazie mille! Mie carissime amiche e compagnie Pixie! Avanti, bambini! Potete farcela! Dovete usare il... Tre pannolini sparchi! Glow Pixie! Ho bisogno di aiuto! Sì, scappiamo! Presto! Ma cos'è questa puzza? Ho bisogno di aiuto, Glow Pixie! Voglio insegnare i bambini a usare il vasino! Ma non sta funzionando! Ho notato! Bolle anti-odore! Oh, ottima pensata, Gigi! Ma non c'è tempo da perdere! Forza, Glow Pixie! Cambiamo questi pannolini! Stai indietro! Materiale nocivo! Ok, quindi... Dovete andare... Ho usato il vasino! Tilly! Ce l'hai fatta! Hai usato il vasino! Stai andando benissimo, tesoro! Forza, piccola! Sì! Prova, Tilly! Wow! Ho scordato i pennelli! Torno subito! Ah! Ta-da! Ta-da! Ah! 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 Sì, sì. bambini basta quelle uova si mangiano bambini e noi non lo sprechiamo il cibo scusa io mi assento un attimo e voi ne approfittate ok va bene vediamo di darvi una bella pulita molto meglio adesso eh ma che disastro voi bambini si che sapete come creare disordine rimettiamo a posto ora mettiamo questi ovetti dentro a quello grande e saremo pronte per la caccia alle uova altre ma vi avevo appena lavati uno c'è troppo disordine qui due glow pixie ormai dovremmo aspettarcelo sembra che cerno abbia bisogno di noi dobbiamo liberarci avanti glopixie dobbiamo andare fiori a porta è come se le uova e la vernice si fossero mescolate formando una colla ci siamo preso caccia o non caccia ho trovato le uova questa stanza è un vero disastro volevo organizzare una caccia alle uova ma i bambini le hanno trovate prima che le nascondessi sta tranquilla so come risolvere il problema sei stata davvero grandiosa Gigi avrei voluto ci fossero altre uova sarebbe stato divertente fare una caccia alle uova con i bambini altre uova eh? aspetta ho avuto un'idea portale lieto cuore apriti Gigi Siena bendate i bambini per favore e anche Charlie ok la grande caccia può avere inizio prendete un cestino e trovate tutte le uova Teo no potrei farci l'abitudine grazie a tutti